Sono 3.702 positivi individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 485.613 tamponi effettuati, mentre il tasso di positività si attesta allo 0,76%. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono 33 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.464 invariati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva 355.